Samsung NP300E5A è un notebook molto compatto dotato di grandi funzionalità. Il design è studiato nei minimi dettagli, la scocca è solida e robusta e dotata di un rivestimento antigraffio. Il suo colore e la sua trama unica donano stile ed eleganza al prodotto. Le dimensioni del PC sono di 367 mm in larghezza e 243 mm in profondità con uno spessore di soli 35 mm. Il display è un 15,6 pollici antiriflesso con tecnologia LED che garantisce una risoluzione di 1366 x 768 pixel. Sulla cornice in alto possiamo notare un'ottima webcam HD che permette videoconferenze nitide e chiare. Samsung NP300E5A monta un processore Intel Core i3 con 6 GB di RAM ed ha un hard disk per l'archiviazione da 500 GB da 5400 giri al minuto. Oltre a questo vanta un processore grafico Videageforce GT520MX con 1 GB di RAM dedicata. La connettività è assicurata dal modulo wifi interno. Oltre a questo Samsung NP300E5A possiede diverse porte di collegamento esterne. Da una parte abbiamo il masterizzatore DVD e due porte USB 2.0, mentre dall'altra troviamo la porta Ethernet, l'uscita VGA, l'uscita HDMI, un'altra porta di tipo USB 2.0 e l'ingresso per le cuffie e il microfono. L'ultima interfaccia la troviamo frontalmente ed è il lettore per le schede di memoria. Velocità e potenza sono quindi garantiti. Oltre a questo si aggiungono alcune caratteristiche interessanti come Sound Alive per offrire un'esperienza audio più ricca e la batteria a litio a 6 celle che unita alla tecnologia Battery Live Plus garantisce lunga autonomia. Samsung NP300E5A è quindi un notebook dalle caratteristiche tecniche al top. L'ottimo rapporto qualità-prezzo lo rendono un prodotto davvero appetibile per il mercato business o per lo svago.